Il Purgatore Il Purgatore Il Purgatore Il Purgatore Il Purgatore Il Purgatore è uno che praticamente muore e deve andare in paradiso e dice Vabbè, il cartatore è ancora arrivato e spiegate qui e ora viene chi di dovere e ti viene Ma tu tutti quelli che hanno morto non hanno potuto nessuno se ne sono giusto se tu vuoi Una ragazza centa milioni una ragazza se tu mi fai domani Ma che caccia dice che buono bene i morti non è vero Non possiamo già dire non c'è niente dopo assolutamente no perché se no questa nostra esistenza sarebbe nuva come non fossimo mai nati né morti niente non ci siamo esisti non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è